ciao ragazzi benvenuti su italyan film collector channel on videomania sono qui per presentarvi arrivi presentarvi acquisti no sono delle news che mi arrivano fresche fresche da raro film studios news che sono inerenti alla nuova uscita di un cofaretto che il raro film aveva già fatto diciamo spoiler appunto di questa diciamo di questo progetto e niente ad oggi abbiamo invece notizie fresche fresche io vi passerei direttamente a farvi vedere le foto che mi sono arrivate appunto da raro film studios che ringrazio per la fiducia riposta e niente le condivido con voi possiamo vedere in sopra pressione la one click dell'edizione poi dopo vi andrò a dire cosa effettivamente contiene questa one click poi passiamo alle varie full slip metal box metal box embossed poi abbiamo ecco l'altra one click ancora ancora metal box guardate che grafiche ragazzi guardate che grafiche spettacolari ci potete vedere anche il materiale extra cartaceo che ci sarà all'interno grafiche ricercate e ovviamente fatte molto bene qui parliamo del titolo di lynch abbiamo il quarantesimo anniversario quest'anno perché un film dell'84 perché vi ricordo che questa edizione conterrà il film dell'84 di david lynch più i due film di will nev ma se andate in fondo al video perché vi svelo un'altra chicca e niente abbiamo visto le foto quindi andiamo un po più nello specifico di cosa conterranno queste edizioni allora sono divise in tre edizioni numerate più una praticamente una one click tirature decisamente bassissime secondo me non bisogna tentennare nell'acquisto perché queste qui secondo me tendono a sparire allora abbiamo dune dell'84 appunto che verrà messa nell'edizione quarantesimo anniversario che sarà 100 copie avrà la metal box esclusiva appunto come abbiamo visto embossed printed poi abbiamo la folder con gli extra bonus cartacei quindi abbiamo la famosa bustina con i contenuti cartacei dove avremo un booklet esclusivo ovviamente in italiano in inglese poi avremo quattro esclusivo movie card quindi sono le cartoline con le scene del film che ci ha abituato ormai rario film studios che sono fatte davvero molto molto bene poi abbiamo le cartoline con i quattro principali protagonisti e in più un poster poi abbiamo la full slip del di dune 2021 che sarà la sand edition 100 copie numerate sempre anche qui metal box esclusiva anche qui materiali cartacei complementi esclusivi perché poi vi ricordo che ogni cofanetto ha i contenuti cartacei complementi diversi perché sono film diversi quindi abbiamo anche qui le quattro movie card i quattro principali protagonisti e il poster stesso discorso come contenuti per quanto riguarda dune del 2024 che è la water edition anche qui 100 copie numerate ma la vera chicca sta nella one click che si chiamerà magical edition abbiamo un box embossed con uv spot gold quindi con insert in oro 50 copie numerate tra l'altro chi prenderà questa edizione avrà anche una mystery gift by raro film quindi questa volta si tengono il regalino ci tengono un po sulle spine bravi raro film studios e niente poi passiamo alla parte che interessa un po a tutti quella economica abbiamo ovviamente allora vi dico innanzitutto che il preorder partirà il 14 giugno chiuderà il 24 giugno sono dieci giorni di preorder nel quale potete usufruire di prezzi scontati dopo non ci saranno sconti raro film studio se ci abituato che non fa sconti quindi non rimandate l'acquisto ma andate di preorder anche perché i tempi di consegne si sono stretti questo qui verrà consegnato entro settembre c'è verso settembre scusatemi perché c'è perché la full slip del 1984 quella di david lynch costerà 139,99 in preorder anziché 179 euro quindi abbiamo la bellezza di 40 euro di risparmio poi mentre quella sands edizione sands scusatemi quella con il film del 2021 costerà 149,99 invece di 179 quindi abbiamo intorno ai 30 euro di sconto euro in più euro meno 29 dovrebbero essere giù di lì poi abbiamo praticamente la full slip water edition che costerà 154,99 anziché 179 anche qui poco meno di 25 euro di sconto e sempre soltanto in preorder la one click invece vi costerà 339,99 anziché 399 euro quindi qui abbiamo la bellezza di 60 euro di sconto ma non contenti potete sempre chi ha il famoso golden ticket di narofilm studios avrà un ulteriore 10 per cento di sconto mentre tutti gli altri possono usufruire dello sconto il codice sconto facebook che gli darà diritto a 10 euro di sconto quindi ai prezzi che ho detto potete togliere o il 10 per cento o i 10 euro quindi non lasciatevi sfuggire il preorder sarà un'edizione senza precedenti e chicca delle chicche perché questa è una chicca veramente secondo me più unica che rara la one click avrà una parte magnetica dove visto che di wilnev uscirà il terzo film nel 2026 dovrebbe uscire ci sarà la possibilità perché raro film farà anche quel film quindi farà un'edizione anche per quel film di attaccare proprio fisicamente questa edizione alla one click facendo un cofanetto unico come magneticamente appunto e tra l'altro come avete potuto vedere dalle grafiche le grafiche non hanno diciamo sono una continuità più verso la storia una cronologia storica una cronostoria scusatemi di dun quindi praticamente andrà attaccato e continuerà anche la grafica cioè quindi sarà un cofanetto unico e secondo me unico la parola esatta niente spero che le news vi siano piaciute e spero che vi è piaciuto come ve l'ho presentata e ringrazio ancora radio film studios per la fiducia di mandare appunto queste news in anteprima quindi restate ovviamente sempre collegati sul canale fatemi sapere cosa ne pensate vi aspetto nei commenti ciao a tutti ciao a tutti